Allora andiamo avanti ancora all'anni 80, questa è quella che tra l'altro ci ha ispirato per il nome del gruppo Time Machine. Allora è un pezzo di You Lewis and the News che faceva più o meno così, più o meno però. Allora andiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti